La storia di Alice mi è arrivata addosso come un treno, direi, e non è stato facile gestirla. A volte, quando si è giornalisti, bisogna inventarsi anche delle cose per quello che riguarda i rapporti con le altre persone. Tu muovi delle cose e quando queste cose si muovono devi essere pronto a cercare di capire dove e come indirizzarle. Musica, musica, musica come se piovesse, musica che corre dallo smartphone alle cuffie, dalle cuffie al cervello e dal cervello al corpo. Left, right, sinistra, destra, auricolari piantati nei timpani come chiodi e flusso del suono ininterrotto. Musica elettronica pesante, ritmi cattivi, rap, pop, testi velenosi di artisti incazzati. Musica 24 ore su 24, notte compresa, servizio full time come i market delle metropoli. La luce fioca dello smartphone appoggiato sul comodino illumina la camera. Musica a basso volume, quanto basta per sapere che il silenzio non esiste. Ed è così che lei ogni notte si addormenta. Questa è la storia appunto di Alice, una storia strettamente collegata al silenzio, alla chiusura, e poi a quella che è stata una sorta di liberazione. E io ancora non ho capito bene per quale motivo mi sono trovato dentro questa storia. Ciao Alice. Ciao Luca. Era il 12-2, famosissimo, 12 febbraio 2016, quando tu trovasti il coraggio per motivi ancora sconosciuti di scrivermi una lettera lunghissima che ti portava fuori da cinque anni di silenzio, di cui tre di bullismo vero e di massacro e di cyberbullismo, e due poi di silenzio dove continuavi a tenerti dentro questo peso. Un po' perché avevo le difese basse, un po' perché mi avevo stupito, ho deciso, bene, questa è la persona a cui io devo affidare il mio segreto. E ho fatto bene, perché da lì ho iniziato davvero ad essere felice. Mi sono resa conto che prima avevo un sorriso sul volto perché mi imponevo di metterlo, e non perché mi sentivo davvero felice. Sono passati quattro anni, sono accadute tante cose. Ma rimanendo in quel periodo di dolore, se tu lo rivedi adesso, ancora ti turba Alice o è un qualcosa che oramai appartiene al passato e non ti genera nessuna emozione? Allora, pensandoci adesso, come sono fatta? Quando inizio a rimuginare i suoi ricordi, riprovo le stesse emozioni. Però, se dovessi fare un paragone, immaginare di ritrovarmi ci dentro, dentro la stessa situazione, adesso avrei le armi per difendermi. Non potrei più soffrire della stessa cosa, perché saprei già come rispondere, saprei già come muovermi, cosa devo fare per evitare anche soltanto di permettere a qualcuno di farmi del male in quel modo. Per tre anni, Alice, tu sei stata oggetto da parte di un gruppetto di illazioni pesantissime a sfondo sessuale. Ti avevano costruito un vestito, un modo di essere, un modo soperandi che naturalmente non aveva nulla a che fare con quello che era il tuo essere. Trovarsi dell'etichetta addosso è uno dei pesi più grandi che un adolescente si può caricare. Parlo ovviamente mettendomi nei panni di una ragazzina di 12, 13, 14 anni, quale ero io. È una situazione che non puoi gestire, perché sei troppo piccolo per alcune cose, ma già ti stai affacciando all'età adulta, quindi senti quel senso di responsabilità in cui dici devo farcela da solo, invece hai troppe cose addosso, troppo peso sulle spalle, che da solo non riesci a gestire, non sai dove sbattere la testa, anche perché non è una cosa che dipende da te. Io mi sentivo pienamente consapevole di non rispecchiarmi nell'immagine con cui venivo descritta, dalle persone che mi hanno scritto un messaggio anni più avanti, che mi conoscevano alle medie, mi hanno descritto come un'automa in quel periodo. Io entravo in classe con le cuffiette, le toglievo per seguire la lezione, perché ovviamente le cuffiette a scuola non le puoi tenere, altrimenti io avrei continuato ad ascoltare musica anche nelle 5 ore di mattinata, le rimettevo a fine lezione e basta. Questo era il mio vivere la scuola, in modo completamente passivo. Tutte le tue potenzialità le hai messe in stand by perché dovevi combattere il tuo dolore, o meglio tu per un lungo periodo ti sei concessa questo dolore. Pensavo di essere io il problema, magari di risultare antipatica, di risultare acida, una persona comunque la cui presenza non era gradita, insomma, ho iniziato a screditarmi da sola, anche perché ero, ripeto, nel pieno dell'adolescenza e queste domande te le fai, inizi a dubitare un po' di te stesso, a farti domande su quali sono le tue qualità, qual è la tua strada, e vedere che non sei apprezzato dagli altri ti porta a non apprezzare te stesso, perché il parere degli altri in quell'età è molto importante. Se hanno pareri positivi, credi in te stesso, vai avanti e sorridi. Se invece hai intorno soltanto pareri negativi o vedi solo quelli, tu stesso inizi ad obitare. La tua camera, Alice, l'hai trasformata in una cella di lusso. Era il tuo angolo di paradiso e di inferno. Perché scrivevi sul muro il tuo dolore? Avevo deciso di scrivere sui muri perché? Perché la camera mia era sostanzialmente la mia prigione, io ero prigioniera in quella stanza, esternavo tutte le mie emozioni negative lì dentro. Alle quattro pareti di camera mia era affidata la mia rabbia e la mia sofferenza, quindi avevo deciso di scrivere sui muri uno perché mi dava più sfogo, due perché metaforicamente era un colorare le barriere della mia prigione, ecco. Quindi la stavo riempiendo del mio dolore, stavo affidando alle pareti la mia sofferenza in modo da potermene liberare completamente. E tu spesso, e vadevi dalla tua stanza, magari è capitato di uscire la notte da sola al cappuccio della felpa alzato e muovere per la città, la città di notte. Io uscivo la sera perché mi proteggeva il buio, perché sapevo di non essere riconosciuta perché ormai le voci, avevo capito che si erano sparsi anche al di fuori dell'edificio scolastico che frequentavo e col cappuccio per evitare di essere riconosciuta da qualche persona che mi poteva incrociare sul marciapiede, con le cuffiette per non sentire niente, per non sentire neanche i rumori delle macchine. Volevo la mia compagnia, la mia musica, perché ovviamente come avevo negato a chiunque mi stesse intorno di sapere cosa stavo provando, l'avevo negato soprattutto a mia madre. Perché? Perché mia madre. E nella mia testa parlarne con lei era un risultare debole, quindi io uscivo fuori, camminavo da sola, uno per sua gare fisicamente, perché comunque camminavo veloce, mi ricordo che camminavo molto veloce. La casa mia, che è risultato più o meno in periferia, arrivava al centro, tornavo indietro, mi facevo mille giri, finché non mi sentivo stanca, ma entravo che avevo fatto il respiro profondo, avevo ascoltato la mia musica, avevo scaricato camminando, potevo rientrare a casa, accenare tranquillamente come mamma, sa che si facesse domande. Te lo ricordi il giorno in cui hai detto alla mamma di aver scritto a questo giornalista? Sì, me lo ricordo benissimo. Mi ricordo che tra me c'era stato qualche giorno di silenzio nel frattempo, qualche giorno in cui stavo meditando se parlarne con mamma o chiudere completamente questo piccolo spiraglio che si era aperto, no? Il giorno che poi ho deciso di parlarne è stato molto semplice. Sono andata da mamma, le ho detto, mamma, siediti, perché devo leggerti una cosa. sapevo di non avere le forze di farle un discorso da zero, di dirle quello che mi passava per la testa, per raccontarle quello che avevo vissuto. Allora avevo preso la stessa lettera che avevo scritto a te. Credo di avergli la letta tutta ad un fiato, spero che abbia capito tutto quello che ho detto, ma ha preso modi sì perché la sua reazione è stata molto, molto grande. Perché in quel momento le aveva scoperto che la mia rabbia, il mio dolore, che lei comunque vedeva nei miei occhi e nelle mie reazioni dentro casa, non erano per qualcosa che poteva avermi fatto lei, perché lei, Cricina, si attribuiva la colpa della mia rabbia, della mia sofferenza. Lei pensava che io provassi dell'odio nei suoi confronti per qualcosa che mi poteva aver fatto in passato. Quando invece era un dolore causato da qualcosa completamente esterno alla casa, lei in quel momento ha scoperto che io effettivamente stavo soffrendo di bullismo. Lei non aveva neanche mai immaginato, neanche minimamente, e ci siamo abbracciate fortissimo e abbiamo pianto tutte e due, però da lì è stato tutto molto più semplice perché ho capito che di mia mamma non potevo fidare, che mia mamma non mi avrebbe mai giudicato su niente. Da lì si è instaurato un rapporto di fiducia e di complicità che probabilmente non sarei mai riuscita a creare altri miti. Ti ho visto parlare, ancora me lo ricordo, a Rimini, di fronte a 1500 ragazzi. tu che avevi paura di parlare con te stessa, salire su un palco e affrontare una situazione di petto così, 1500 ragazzi raccontare la tua storia. Mi rendo conto, mi sono resa conto in questi anni di quanto si è espanso il fenomeno del bullismo e del sabbia bullismo perché da vittima pensi di essere solo completamente e poi invece ti rendi conto che anche nella tua stessa scuola ci sono un altro centinaio di ragazzi che stanno vivendo dal tuo stesso incubo perché non facciamo branco. Che tipo di appagamento si prova ad avere tante ragazze che nel corso di questi anni hanno trovato in te un punto di riferimento? Vedere che si fidano di me in questo senso e mi affidano il loro dolore perché magari sono la prima persona con cui ne parlano inizialmente mi pervade un grande senso di responsabilità quindi entra in gioco la determinazione e vedere poi che riescono a fare quel piccolo passo e uscire dalla loro bolla è veramente qualcosa di indescrivibile sento proprio un sole crescere dentro di me sapere che sono riuscita a fare qualcosa di buono che sono riuscita ad aiutare una persona ad uscire da quell'incubo a rimettergli il sorriso sul volto è davvero come un abbraccio che dura più di di 30 secondi sai con gli abbracci stretti fortissimi ecco la soddisfazione è quella l'emozione che prova il calore di sapere che sei riuscita a fare qualcosa di buono per qualcun altro ricordo quando Alice con un certo imbarazzo mi disse sai Luca io scrivo poesie e in quel periodo così devastante in quel periodo dark della mia vita ne ho scritta una particolare te la posso inviare mi invia questa poesia la leggo e capisco che dentro questa poesia ci sono tante cose e allora io vi leggo questa poesia che è una sorta di manifesto a mio giudizio e spero che possa girare per le scuole spero che questa poesia possa continuare veramente a muoversi in autonomia perché racconta il disagio di una generazione e forse non solo di una generazione provaci tu provaci tu a camminare nel cortile folla aperta per farti passare e passi piano a fianco a tutti sentendo di te i pensieri più brutti quelli che sai sono certamente falsi ma non conosci gli altri ancora più rifatti provaci tu a camminare con musica peggiore continuando a pensare testi ignoti sembra che ti parlino di cose già vissute e gli altri che ti guardano sembri felice pure bruci dentro col sorriso enorme ma lo sguardo spento provaci tu a scusarti mille nodi in gola e pieno di rimpianti varie scuse inutili mancate pensando in giro alle emozioni provate le prime sere spensierato per i parchi ora vedi gente la sua pelle con i marchi provaci tu a osservare una generazione finta orgogliosa per ascoltare una città morte priva di colore e spesso vuoi un abbraccio risentire quel calore provaci tu a conoscere questa città vuota che non ti sa coinvolgere come fossi in un universo parallelo e vedi tutto come da sotto un velo un velo lercio sporcato dal dolore poi quando torni a casa ripensi al suo sapore provaci tu a sognare un posto migliore dove poter andare disperdere pensieri mollare paranoie dimenticare ciò che eri ed inizi ad avere voglia di buttarci tutto fuggire più lontano dove sei un anonimo in cerca di una mano provaci tu ad accettare di cambiare gente senza paura di provare emozioni tue prima morte poi sepolte spuntano intanto nuove idee ma che lasci incolte arriva l'occasione di migliorare tutto dimenticare te stesso il tuo io distrutto provaci tu a cambiare modo di essere modo di parlare senti dentro questo nodo che stringeva e solo ora si risolve mentre prima ti mordeva provaci tu solo ora a stare bene a sentirti vivo con il sangue nelle vene circondato da smog ma odore anche di mare che quando vince il demone ti ci lasci trasportare spiaggia di notte lo sai è ancora più bella come fossi in cielo e lì sembri una stella a volte torni immerso in quella città vuota che riempi di colore con la tua vita nuova e lì sembri una stella